E noi siamo in ottima compagnia perché abbiamo chiaramente la priorità penso che possa andare all'amore con Bibli. Noi chiudiamo la diretta però prima. Anna Maria volevi dirci qualcosa? Veloce, veloce, veloce perché dobbiamo chiudere. Sì, veloce. Allora, innanzitutto vi devo far vedere una cosa. Ignazio ce l'ha portata personalmente prima di partire per il Brasile. La maglia che gli abate a Dario prima di partire per il Brasile e poi avevo. Basta così. In bocca al lupo, lo dobbiamo chiudere, non abbiamo più tempo. Grazie. A tutta la scantina. Il Pagli sono i campioni. Amadeo, domani ce la giochiamo con una squadra che è data come outsider ma potrebbe farci una brutta... Certo, la nostra riga ricordiamo che è un paese di 4 milioni e mezzo di abitanti. L'allenatore, questo organo è spinto, 62enne colombiano che conosce tutto dell'Italia e della squadra zura. E la cosa curiosa è che per motivare i suoi giocatori fa arrivare dei videomessaggi dei parenti dei calciatori che in qualche modo incidono i giocatori, loro si commuovono e vanno in campo come hanno fatto battendo l'Uruguay. Speriamo che non battano l'Italia. Io penso che l'Italia vincerà. Allora, prima... Cosa fai? Amore? No, amore l'altra. Amore? 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 Quella, quella è il serio. Speri qui. Allora, considerate... Amore, vai, scegli ora. Le ha sbagliate tutte fino adesso. Per cui, se ha preso quell'altra, in amore, si vince l'altra giocatore. Come del solito. Amore, chi vince? L'abbiamo definito, amore. Allora, ci vediamo lunedì perché domani è comunque sulla partita. Noi incrociamo le dita, facciamo gli scordi per la nostra Italia. Grazie. Noi ci vediamo lunedì, le 17 e 13 minuti a più e minuti a meno. Vi aspettiamo. Un po' più, un po' più domani. Ciao, ciao, ciao. Leggo. Leggo.